Dopo quello che è accaduto nell'ultima ondata violenta di maltempo che ha messo in ginocchio la città di Salerno, il Comune ha deciso di correre ai ripari e alla luce delle avverse condizioni meteo con previsioni che parlano di forti precipitazioni e forti raffiche di vento in questo fine settimana, sia oggi che domani ha deciso di sospendere e di non attivare il servizio navette a Rechi, piazza della Concordia previsto per luci d'artista nel fine settimana. Si tratta degli speciali collegamenti che consentono ai visitatori di parcheggiare l'auto nella parte periferica del Comune Capoluogo e di raggiungere evitando il traffico il centro attraverso dei bus che percorrono una corsia preferenziale realizzata sul lungomare. La sospensione del servizio prevede che la viabilità sul lungomare sarà quella ordinaria e non soggetta a limitazioni. Restano in vigore solo le restrizioni alla circolazione previste per luci d'artista nelle zone adiacenti al Teatro Verdi di Salerno. Una misura precauzionale dunque legata non solo ai possibili ingorghi nel traffico che rallenta con la pioggia ma anche per la riduzione dei flussi turistici fermati proprio dalle cattive previsioni meteorologiche. A causa della pioggia inoltre è stata anche rimandata l'inaugurazione del presepe di sabbia in programma alle 16 con il Vescovo di Salerno che avrebbe dovuto benedire la installazione realizzata nell'ambito dell'iniziativa. Grazie.